Il gossip esplode? Chiara Ferragni starebbe frequentando Giovanni Tronchetti. Provera è un noto settimanale e ha diffuso le foto di un incontro segreto, le quali confermano i rumors. Dopo la fine della presunta storia con Silvio Campara, comunque mai confermata del tutto, l'ultimo rumors vuole l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, impegnata in una relazione con Giovanni Tronchetti Provera e il settimanale Chi ha pubblicato delle foto segrete che ritraggono i due in una gita sul lago di Como. Sono arrivati per pranzo sulla stessa automobile, sono rimasti parecchio seduti in terrazza, si avvicinavano, si sono fatti anche un selfie, così si legge sulla rivista. Sono una delle coppie più chiacchierate del momento e lo scoop è stato lanciato il 25 ottobre da Dagospia, dove si parlava di un'amicizia molto intensa. Queste foto del pranzo sul lago di Como confermano la notizia senza tuttavia suscitare troppo clamore, infatti non ci sono stati baci ma solo molta vicinanza. Il figlio di Marco Tronchetti Provera ha 41 anni e si è separato dalla moglie Nicole l'anno scorso, con lei ha tre figli. Il pranzo fra l'imprenditore l'influencer si è tenuto a Villa d'Este e sarebbe avvenuto il 28 ottobre. Addirittura si vocifera di un bacio. Nel settimanale si parla di affetto e diffusioni, ma si lascia intendere anche che ci sia stato un bacio fra Chiara Ferragni e Giovanni, tuttavia non si capisce molto chiaramente dalle immagini. Dopo la giornata insieme i due sono tornati a Milano in previsione di una cena per il compleanno di Marina di Guardo, mamma di Chiara. Il primo incontro fra i due c'è stato ad agosto ad Ibiza, quando ancora Silvio Campara era un nodo da sciogliere e non si sapeva bene il suo ruolo. In quel frangente l'imprenditrice ha approfondito la conoscenza con Giovanni, ma già i due si erano incrociati spesso perché i figli frequentano la stessa scuola.